Bene, buongiorno a tutti, buongiorno, eccomi qui di nuovo dopo una settimana di buco, devo ricordarmi di guardare qui in questo puntino qui con la nuova edizione dell'incursore, come sempre nell'attesa che veda comparire qualcuno e che qualcuno mi confermi appunto che si sente che va tutto bene, faccio la condivisione sulla mia pagina. Ho visto comparire Andrea, buongiorno Andrea, come stai? Tutto bene? Qui a Milano c'è una bella giornata di sole e condividiamo qua l'incursore, scusate che come sempre essendo un uomo lo ricordo tutte le volte e non riesco a fare due cose contemporaneamente, il bello della strategia e zaccheta, siamo in diretta anche da questa parte, buongiorno anche a Vittoria. Allora, il bello della strategia, perché il bello della strategia? Perché oggi la mia discussione, che sapete cerca sempre di guardare nel cortile, tra l'altro io ho lo sguardo proprio qui sul cortile, vuole cercare di, grazie Vittoria, vuole cercare di ragionare partendo dal basso, partendo dai vicini di casa, partendo dai vicini della famiglia, partendo da coloro che ci ascoltano perché li incontriamo al bar, li incontriamo in ascensore, li incontriamo a tavola. E cerca quindi di far vedere, toccare con mano, partendo dal nostro impegno personale, quello che è la bellezza, la bellezza della vita, la bellezza della vita come ce la raccontiamo e la bellezza della vita che secondo noi nasce dalla famiglia. Dalla famiglia come cellula prima della società, come luogo di affetti, come luogo di amore, come luogo in cui il modo normale di stare è l'amore. Famiglia basata sul matrimonio tra un uomo e una donna e che non ha fine, non ha fine perché la fedeltà è un valore che cementa la famiglia e la rilancia. Questo è quello in cui crediamo. Poi la nostra è una proposta, evidentemente oggi non si può certamente imporre il bene, lo si deve raccontare, lo si deve imporre. E vorrei oggi sottolineare due o tre aspetti di notizie che ci hanno in qualche modo coinvolto, che ci hanno in qualche modo raccontato, scene del mondo negli ultimi giorni e anche che sono successe qui in rete. Buongiorno a Cinzia, anche buongiorno a Cecilia, buongiorno a Anna, che vedo comparire adesso. Quindi che ci hanno in qualche modo coinvolto o reso partecipi di cose che avvenivano per partire da lì, partire da una riflessione. Mi riferisco in particolare alla marcia per l'accoglienza che c'è stata qui a Milano, che è stata anche pesantemente, non direi attaccata, non è la parola giusta, non vorrei proprio parlare di questo, messa in discussione, ci è cercato di ragionare da parte di numerosi commentatori che non appartengono certo al mondo del popolo e della famiglia o non appartengono certo al mondo anche che si riconosce, buongiorno a Giuseppe, buongiorno ad Emanuele, che si riconosce nel cosiddetto centrodestra, cioè nell'aschieramento che parte da una condizione diversa di comprendere la realtà. E persone squisite, giornaliste di fama che io apprezzo e stimo, come Paola Bacchiddu, come Marta Ottaviani, sono state pesantemente attaccate, qui in questo caso il termine è corretto, pesantemente attaccate, buongiorno a Corrado, pesantemente attaccate da una valanga di persone, da un numero di persone, una valanga forse troppo, che dissentiva pesantemente da loro, con un meccanismo che vorrei affrontare, perché questo è il punto. Io ricordo una meravigliosa battuta di Corrado Guzzanti che diceva se i partiti non rappresentano più gli elettori, insomma, bisogna cambiarli questi elettori, perché fondamentalmente il meccanismo in cui molti si muovono è questo, si fanno un'idea a tavolino della realtà, non ultimo, quella persona di poco criterio, fatemela definire così, fondatore di Twitter e di altre applicazioni, di altri social media sul mondo della rete e che ieri un articolo pubblicato dal Corriere che ho riportato anche nella mia pagina diceva, ero convinto che nel dare la voce a tanti tutto il mondo sarebbe diventato migliore. Personaggi di questo genere che cosa fanno? Questo è il meccanismo su cui vorrei riflettere oggi per vedere il bello della strategia. Partono da un'idea del mondo che piace a loro, il mondo è bello, il mondo è fatto così, il mondo ha un'antropologia superiore di alcune persone che sono migliori delle altre perché hanno capito i veri valori del mondo, quindi sono loro che devono gestire questo mondo e il mondo deve configurarsi così come io l'ho pensato. Invece di partire dalla realtà, dalla comprensione di quello che è l'uomo, dall'antropologia, dalla sociologia, dalla interpretazione corretta di quelli che sono i meccanismi con cui la persona agisce, dalla comprensione di cosa sia il bene e il male, dalla comprensione della lotta tra il bene e il male che dentro ognuno di noi c'è perché ognuno di noi vive questa lotta, ognuno di noi è fragile, ognuno di noi può cadere da un momento all'altro. Un santo che mi è molto caro diceva, facendo riferimento anche a schemi culturali degli anni 30 e quindi la battuta va interpretata in questi ambiti qui, io stesso, che sono sacerdote, intendeva dire, potrei fuggire domani mattina con una ballerina di fila. Nel senso che non siamo esentati in nessun modo dal commettere errori o se vogliamo dirla con un termine spirituale, dal commettere peccati. Invece c'è l'interpretazione di alcuni, appunto come il fondatore di Twitter che dice io credevo che dando la parola a tutti il mondo sarebbe diventato migliore, c'è l'interpretazione di questi schemi brucianti. Un bellissimo articolo che anche questo ho riproposto qualche giorno fa, apparso su una rivista online di sinistra, diceva proprio questo, che l'ideologia, il bigottismo che deriva da una visione ideologica della realtà, una visione che deve stare dentro il mio schema e che non parte dalla realtà, produce mostri. Quindi il sonno della ragione o potremmo dire il sonno dell'ideologia produce mostri. Un mondo che vuole, una visione del mondo che vuole schematizzarlo, ridurlo in poltiglia, ridurlo in blocchetti, metterlo dentro queste cose qui, non funziona. Allora noi dobbiamo mostrare questa capacità. La religione cristiana, ma ripeto, questo è un schema culturale, io non voglio partire dal presupposto che se uno non possiede la fede non può comprendere il mondo o non può essere una brava persona. Questa sarebbe una presunzione veramente intollerabile. Quindi io mi riferisco alla visione cristiana come visione culturale, come visione del mondo, come visione di quello che ci capita intorno e non necessariamente come fede. Questo vorrei chiarirlo. Non perché non ci creda. Io sono, in maniera molto aperta, confermo a tutti il fatto di essere credente e praticante, romano, cattolico, apostolico. Ma questo non vuol dire imporre agli altri il mio punto di vista, vuol dire proporlo. Dobbiamo essere capaci di rendere conto della ragione che abbiamo in noi. E questo rendere conto della ragione vuol dire dirlo con le parole degli altri. Quindi fatta questa doverosa promessa, non mi ricordo più quello che volevo dire, o scherzi a parte, si dice che l'essenza della religione cattolica non sia quella del out-out. O è così, o è così. E quindi a costruire muri in fin dei conti. Questo è costruire muri. Ma quella del et-et, cioè della capacità di mettere insieme verità e carità. Il più grande degli et-et è questo. Sì, Pongi, ho detto che sono romano nel senso di cattolico romano, perché sono milanese, imbruttito, e sono contento di esserlo. Detto questo, torno a quello che dicevo. Quindi è la conciliazione, ma non una conciliazione da volemose bene. Non è una conciliazione, vevi che ho parlato anche in romanesco, non è una conciliazione che tende a diluire le cose e a mescolarle, che tende a fare un put-pourri, che tende a fare un calderone unico, una brodaglia. No, è la capacità di prendere gli opposti e unirli in una sintesi che è quella della virtù, che è quella che sta in mezzo. E non sta in mezzo perché è una mediazione tra due opposti, ma sta in mezzo perché è il punto di equilibrio, è il punto di saggezza tra gli eccessi e i difetti, quindi tra questi due elementi qui. Quindi io credo, in modo particolare sono fortemente convinto di questo, che la nostra capacità del cortile, la nostra capacità della piazza, è quella di comprendere le persone, comprendere le situazioni e, grazie Antonello, e comprendere la situazione e viverla rimanendo fedeli ai propri valori, rimanendo fedeli a quello che sia importante. Allora, lo schema ideologico sfugge a questo, sfugge soprattutto a una delle condizioni fondamentali che a mio parere è tipica di chi professa una fede ed è tipica soprattutto della persona di buonsenso, che è quella dell'autocritica, che è quella del chiedere scusa, del chiedere perdono, è quella di accorgersi di sbagliare e farlo proprio. Ora, invece, l'antropologia culturale, quello che dice che c'è una superiorità antropologica di alcune persone, parte proprio da questo concetto. E la gabbia ideologica è quello che produce altre gabbie ideologiche. Così come coloro che affermano che c'è una superiorità padana, produce reazioni violente da parte di chi vuole l'accoglienza, quelli che dicono che l'accoglienza va fatta per sé, in sé, che l'immigrato è buono per definizione. Ci sono comici che ci campano su questo, creano altrettante repulsioni ideologiche, mentre invece bisognerebbe trovare la conciliazione, partire dal fatto che l'uomo sbaglia. E quindi l'errore o la bellezza non sta nella etnia, nella religione, sta nel fatto che ci sono persone che sbagliano. Quindi la comprensione del fenomeno sociologico non è la comprensione di uno schema da applicare alla società, ma la comprensione delle cose che capitano, delle cose che capitano, dei disagi che vengono creati. L'accoglienza è un dovere, soprattutto per chi appunto professa una fede, ma deve essere fatta in maniera da favorire questa accoglienza. Diceva benissimo quell'articolo che vi ho citato poco fa, che raccontava appunto come l'accoglienza radical chic, diciamola questa parola, l'accoglienza radical chic che è l'anima della marcia che abbiamo visto a Milano sabato, come lo spiega benissimo questo articolo, è quella di accettare persone che vengono da fuori per fargli fare i lavori che gli italiani non vogliono fare più. Ma questo non è molto vicino allo schiavismo americano, cita questo articolo e io lo condivido perfettamente. Ma non voglio entrare in quel problema, ripeto, non voglio entrare in quel mondo lì, voglio entrare sullo schema generale. Lo schema che si può applicare anche ad altri casi, che una delle ONG dica, no, le ONG sono tutte brave, sono tutte meravigliose, sono tutte pronte a darsi da fare per gli altri. È un errore gravissimo, perché gli errori ci possono essere da tutte le parti. Il male si annida ovunque. Il male non è qualcosa che sta soltanto nel campo degli altri e non nel mio. Il male è dentro di me. Io mi devo confessare quotidianamente per gli errori che commetto, perché ne commetto una valanga. Alcuni magari senza accorgermeli, altri in maniera consapevole. E quindi il male è dappertutto. Questa è una finzione, quella di immaginare che il male non vada a toccare alcune realtà perché sono superiori antropologicamente, perché posseggono il bene e posseggono la verità. Il fatto di dire, fermate tutti, forse anche tra di noi c'è qualcuno che non funziona, forse anche nella categoria logica dell'immigrato c'è qualcuno che non funziona e c'è qualcuno che non funziona e bisogna prenderne atto. Nella categoria delle ONG c'è qualcuno che non funziona e bisogna prenderne atto. Nelle categorie dei politici c'è qualcuno che non funziona e bisogna prenderne atto. All'interno del popolo e della famiglia, diciamo, c'è qualcuno che non funziona e bisogna prenderne atto, perché altrimenti faremmo il gioco delle parti, faremmo il gioco dello specchio. I cattivi sono dalla tua parte, ma i miei sono tutti buoni. Io sono il primo a riconoscermi, dicevo, in errore in questo. E ad esempio, e con questo vado a chiudere, credo che bisogna cambiare la strategia della presenza in rete. Io sono convinto, oramai sono convinto, per me è una mia opinione, quindi io come tale la riconosco, è una mia opinione della quale sono pronto a rispondere, ci metto la faccia, quindi mi assumo la responsabilità personale di quello che sto dicendo. Ecco, io penso che certe posizioni di estremo attacco non paghino più. Non paghino più perché comunque non ottengono niente. Anche perché, a mio parere, la mia esperienza della presenza in rete è che fondamentalmente quando ti schieri contro una posizione, quindi quando entri in conflitto con persone che sostengono con arroganza la loro posizione, non devi sostenere la tua posizione con arroganza. Non è a loro che parli. Parli a quelli che ti ascoltano, a quelli che ti vedono e che capiscono la differenza tra qualcuno che aggredisce e qualcuno che ragiona. Torno a casi molto lampanti di persone di cui ostima, non condivido necessariamente tutte le loro idee, ma di cui ostima. Citavo prima Paola Bacchiddu, citavo prima Marta Ottaviani. Aggiungo a queste due grandi combattenti del web, come Marina Terragni e Monica Ricci Sargentini, che si stanno battendo come leonesse contro la GPA, contro l'utero in affitto, e che sono oggetto quotidiano di gravi attacchi, e tutte le femministe che con loro sostengono queste posizioni. Allora, io credo che lo scontro frontale non serva. Io credo che il ragionare costantemente, con pacatezza, accettando di essere presi a schiaffi, e poi noi che abbiamo questo cappello di cattolici, dovremmo saperlo bene. Leggevo proprio ieri un brano di San Tommaso, che diceva, vuoi essere realmente cattolico? Vuoi essere realmente felice? Beh, guarda quello che è successo durante la passione, guarda quello che è successo in croce, e cerca di fare la stessa cosa. Ama quello che ha amato Cristo in croce, e disprezza quello che lui ha disprezzato. Ora, capisco che questo è un messaggio molto forte, che impone in un certo modo una fede, una fede importante, ma io credo che nel momento in cui qualcuno di noi scende nel cortile per raccontare agli amici quello in cui crede, deve immaginarlo, deve in qualche modo essere legato a sé. Allora, ripeto, quindi queste persone che stanno prendendo schiaffi, ecco, io credo che la strategia sia proprio quella, di continuare a sostenere con correttezza, con rispetto, con forza anche, la propria posizione. Perché chi ascolta, chi legge senza intervenire, guarda questo. Non guarda, non faremo cambiare l'opinione a queste persone. Voi siete convinti di far cambiare l'opinione a queste persone? Perdonatemi, siete degli illusi. Queste persone non lo cambieranno, non lo cambieranno, sono talmente sprofondate all'interno della loro ideologia, della loro idea, della loro rappresentazione del reale, che per loro è reale, e quindi non la cambiano. Come d'altra parte, non la cambiamo noi, qualcuno pensa di far cambiare idea a noi, qualcuno pensa di farci assumere una posizione diversa sulle verità non negoziabili. No, noi non cambieremo la nostra posizione sulle verità non negoziabili. Allora, quello che conta è come argomentiamo, quello che conta è in che modo trattiamo gli altri, perché lì c'è lo specchio vero. Se io dico di rispettare tutte le persone, se io dico di rispettare gli altri, devo farlo in qualunque circostanza. Qualunque circostanza, per esempio, ieri ho avuto una piccola discussione con alcuni amici su argomenti di tipo calcistico. Ecco, io vorrei prendere e chiudere con questo come esempio, perché vale la pena di sottolinearlo. Non mi pare che i valori nei quali, io credo, quindi sto facendo il mio discorso, io spiego perché sostengo la sportività in tutto. Ecco, non mi pare che colui al quale mi ispiro come valore di fondo abbia detto amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, tranne coloro che hanno un tifo diverso dal tuo, tranne coloro soprattutto che sono della Juventus, della Roma, della Lazio, del Milan, dell'Inter, del Torino, del Genoa, della Sampdoria, vatte la pesca, o tutti tranne coloro che sostengono in maniera differente delle tue alcune posizioni. Non mi sembra che abbia detto questo, se qualcuno ne ha traccia me lo faccia vedere, perché perlomeno nei miei testi, quelli che contemplo io, non c'è scritto questo. C'è scritto invece fatti riconoscere da questo, da come vi amate fra di voi, riconosceranno che siete miei figli, che siete miei fedeli, che siete credenti in me. Da questo lo riconoscerete. Quindi forse mi riconosceranno come tale, cominceranno ad avere qualche dubbio se io scrivo complimenti a questa squadra, complimenti alla Juventus che ha vinto il sesso scudetto di fila, piuttosto che non scatenarmi in una serie di accuse su furti veri o presunti che siano. Per quello parla la magistratura, per quello parlano gli organi costituenti. Se ci sono dei fatti concreti, sono fatti concreti. Ma che esempio do io ai miei figli? Che esempio do io ai miei amici? Che esempio do a coloro ai quali voglio far vedere che i miei valori sono importanti? Se parlo di affetto, di misericordia, se parlo di amore, se parlo dell'importanza della famiglia e poi mi lascio andare a delle invettive terrificanti sui tifosi di ordine diverso dal mio, se auguro la morte o se auguro la sconfitta. Che esempio sto dando? In che modo c'è coerenza tra quello che presumo di avere e quello che sto realmente facendo? Allora, io credo che la differenza sia qui. Se noi siamo capaci di far vedere anche qui, anche sui social media, che non è l'attacco a testa bassa quello che permette di ottenere risultati o di ottenere voti. La difesa con coerenza e con forza del proprio punto di vista, delle proprie idee, è una cosa importante. L'offesa alle persone è tutt'altro. L'attacco aggressivo, la violenza, l'insulto, lasciamolo fare ad altri. Non sta nel nostro cortile, nel mio cortile non c'è. Poi, le volte che ci sarà, alzo la mano e dico scusami, ho sbagliato. Ho sbagliato tantissimo, sbaglio in famiglia, sbaglio tutti i giorni con i miei figli, sbaglio con mia moglie ad essere aggressivo perché magari abbassi il livello di controllo, ti fai prendere dalla stanchezza, per cui la risposta sgradevole non gliela risparmi, non gliela fai mancare, ma devi avere poi il coraggio, come tra l'altro ci insegna il Papa, di dire scusate, ho sbagliato, ho sbagliato. Lo dice anche Randy Pausch, magari ne parleremo un'altra volta di questo. Quindi io direi che il punto chiave è la strategia, avere una strategia che è basata sulle tette, una strategia che è basata sulla comprensione della persona e la difesa del valore che per noi è significativo. Una strategia che ci porta a essere d'esempio nel nostro cortile, che sia un cortile vero o che sia un cortile virtuale. E credo che questo sia il punto opportuno. Criticare basta, non serve. Il caffè che ho lanciato questa mattina, se avete voglia di andare a vederlo sulla mia pagina, parte da una considerazione che dobbiamo imparare a ringraziare, a ringraziare con gratuità, perché c'è troppa gente al mondo che non sa che lamentarsi, che trovare tutte le volte l'elemento negativo è una bellissima giornata di sole, sì ma potrebbe piovere, sì ma sono sicuro che se vado fuori, poi chissà quanta gente trovo al parco e allora cosa vengono a fare tutti al parco che ci sto andando io? E poi si suda e poi devi cambiare. Goditi la giornata di sole, goditi quello che stai vedendo adesso. Impara a ringraziare, perché una persona si ferma al passaggio pedonale. È il loro dovere, sì, proprio per questo è gratuito, proprio per questo è gratuito e gli renderai la giornata magari più felice. Sorridi, sorridiamo di più e sicuramente faremo vedere in questo modo, perché queste cose le abbiamo imparate in famiglia, le abbiamo imparate dai nostri genitori, facciamo la fatica di vivere tutti i giorni con i nostri figli, con i nostri coniugi, con i nostri parenti, faremo capire la bellezza del messaggio che stiamo portando. Ci vediamo domani, mi raccomando vi aspetto qui, tutti quanti, alle 12 per l'incursore. Un saluto da Paolo Pugni e arrivederci dalla televisione del Popolo della Famiglia. Ciao a tutti.